Oggi la sgagliozza è la settima meraviglia culinaria d'Europa. Lei che ne pensa? E' buona. Lei non ha mai assaggiato una sgagliozza? No, non sono di Bari. E di dov'è? Di Milano. Quindi oggi per la prima volta assaggia la sgagliozza? Sì. Polenta fritta con un non so che di speciale che si scioglie in bocca, anche se un po' scotta perché va gustata super calda. Eccola la settima meraviglia culinaria d'Europa, la sgagliozza barese. A farla diventare così importante è stato il prestigioso settimanale americano Newsweek. Ma nonna Maria Papagno, 80 anni e una vita dedicata alle sgagliozze, non si meraviglia di tutto questo clamore. Del resto lei e le sue sgagliozze già da tempo sono conosciute persino in America. Quindi in tutti questi anni quante sgagliozze ha preparato? E' un'azienda in minuta, in catate. Possiamo dire milioni? Eh, milioni. Dall'età di 12 anni nonna Maria frigge in media circa 2 kg di sgagliozze a sera e più che un lavoro è una vera passione. Il segreto per fare la sgagliozza buona qual è? Niente mamma, la quadratina. E l'ho detto, vuole vedere le sbarre? Ma mi dice una sbarra, una sbarra sì. Poi si mette sopra la tavola mamma, si mette questa e si taglia mamma. Deve tagliare. A quadratini? Eh sì, le dite. Quanto tempo prima si preparano? Niente, dalla mattina. Deve lasciare a riposare? Riposare, poi le devi tagliare. Tagliare, ma quando prendiamo qua, quando viene la gente, si vende. E se i baresi sono ormai consumatori incalliti di sgagliozze, ecco i curiosi e golosi che alle sgagliozze non possono rinunciare, persino da Milano. È buono. Sono così buono perché è una cosa genuina che si usava prima, quindi è 2 euro si ora. Grazie a voi. Grazie a tutti.